Ma è vero che quando una Lamborghini si ferma in qualunque parte del mondo arriva un aeroplano su una semplice telefonata con i pezzi di ricambio al meccanico? No, non è che arrivi un aeroplano, se ad esempio un cliente anche dall'Inghilterra, da Odoè, dalla Spagna, non dico dall'America, perché dall'America siamo organizzatissimi, ci telefona che ha qualcosa, noi possiamo partire in giornata con un aereo di linea, un nostro meccanico con quello che c'è bisogno e va l'aglio, lo mette a posto e gli chiede scusa e poi ritorna e gli mandiamo anche una lettera chiedendo scusa. Ma chissà quanto costa questo? Beh, sì, costa, ma vede... No, dico al cliente. No, il cliente non costa neanche una lira, costa a noi, costa a noi, però vede, è un costo che rende, è un costo che rende in quanto il cliente che lei gli ha fatto un servizio di questo genere, lo racconta a tutti e raccontandolo a tutti diventa una pubblicità.